L'obbligo del possesso del Super Green Pass per il personale scolastico di fatto è scattato solo ieri. Dopo l'approvazione del provvedimento infatti era stato concesso un margine di tempo di 5 giorni, scaduto appunto il 21 dicembre, a chi ancora non si era vaccinato di prenotare un appuntamento o eventualmente produrre una certificazione per l'esonero. Nel Vicentino la percentuale dei dipendenti della scuola che si sono regolarizzati sarebbe molto alta, ma al provveditorato provinciale non sono ancora stati ufficializzati i dati definitivi. Resta pertanto la preoccupazione che qualche scuola rischi di andare in difficoltà. Noi siamo andati all'istituto Fusinieri per capire se l'introduzione del Super Green Pass ha creato problemi. In realtà no, finora no, non ha creato dei grossi problemi. Vi siete dovuti organizzare? Abbiamo dovuto seguire la procedura prevista dalla normativa e così abbiamo fatto, certo, però non ci sono stati dei grossi problemi. Sul numero totale del personale in servizio in questa istituzione scolastica l'impatto è di circa il 7-8%, l'impatto cioè di coloro che non risultavano in regola con l'obbligo vaccinale. Alla fine dei cinque giorni si sono risolte una serie di situazioni, ognuno in base alla propria peculiarità. Se questa è la situazione tra il personale docente e non docente, come si sono comportati i ragazzi? I ragazzi affrontano questo periodo complessivamente con senso di responsabilità, rispettano le norme. A scuola sicuramente viviamo una fase piuttosto delicata, però i ragazzi fanno la loro parte.